I carabinieri di Caltanissette e San Cataldo sono stati impegnati questo fine settimana in un'operazione di controllo straordinario del territorio che ha portato all'identificazione di 63 persone e all'ispezione di 42 veicoli. In particolare a San Cataldo, un nisseno di 20 anni, è stato sorpreso alla guida del proprio veicolo in evidente stato di alterazione psicofisica. I militari dell'arma hanno condotto il ragazzo al nosocomio nisseno per effettuare gli accertamenti tossicologici. Dagli esami è emerso che il ventenne guidava sotto l'effetto di droghe e per questo motivo gli è stata ritirata la patente e ora dovrà rispondere all'autorità giudiziaria del reato di guida sotto l'effetto di sostanze psicotrope. Sempre a San Cataldo, un altro nisseno di 19 anni è stato trovato in possesso di 3 grammi di marijuana. La perquisizione è stata estesa anche alla sua abitazione dove sono stati rinvenuti altri 4 grammi della stessa sostanza. Il giovane è stato quindi segnalato alla prefettura di Caltanissetta.